ok è il momento di andare a casa di eris inviamoci le missioni secondarie ho fatte tutte quindi penso che adesso andremo un po' avanti con la storia principale oh duvori posto il bambino chiedo ancora scusa per l'erbaccio però magari non sono così male da vedere pocazzo hello erith what do you want haven't seen him before he your new boy toy he's my bodyguard if you must know wait a minute those eyes is he the one who beat up reno and what if i am need to cross my t's dot my eyes that's all ah i have to be the arena cloud leave him be rude's not a bad person really no i'm not bad but like it or not i sometimes have to do bad things i'll see don't take it personal and again you turks are all the same all bark no bite you want to talk oh cadroia non aspettavo questa oh 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 non parano altre parti ok 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 lasena lasena come on come on so it's my turn one more shot good can't keep eyes ah ah sol Faccio un'altra volta, ma sono estremamente... Oddio, non riesco mai a anticiparlo, cazzo. Sono ancora a dormire. No, no, aspetta, diciamo prima una bella preghiera. Non riesco a dormire. Uggio, l'avevo quasi evitato però. Facciamo un'analisi. Un vento... Non mi ricordo se c'avevo qualcuno... Non mi ricordo se c'avevo qualcuno... Non l'avevo mai preso, cazzo. Ricordiamo prima. Cazzo, 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 cazzo. Vedo cosa posso fare. Puoi prendere per me? Inizio! Cazzo! 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 Quindi, avevi ancora sufficienti? No, non credo che ho avuto. Ah, ok. Ah, devo... Ah, devo... Devo... Devo bloccare, eh? E pensi a cambiare carriera. Che ha avuto, ok? No. Ah, vediamo. No, non ce la vedo più. Non ce l'ho avuto, ok. Ah, va bene. Ah, è un ruolo. A che è un ruolo suonare. Ah, mi non c'è mai bene, ah ne? Eh, non ho visto un ruolo suonare. Ah, non ho visto minuto, ah? Ah. Ah, ah. Oh, mi ha preso guarda Vabbè no, no, c'ho la limite però Lo vorrei prima, se c'è ma No, becca sempre No, no, ho preso in pieno No, ho però un po' il culo però Non è via sempre Non è via sempre Sentire questa E non faccio nemmeno un po' I Dark Arts Rotto il cazzo Allora, non riesco a evitarla Eh, è acceso dristo Eh, non si riesce a evitare Mannaccia Mi piace un colpo Buona preghiera I'll take care of you It's your turn Come cazzo faccio Non betta il cazzo It's on you So it's my turn One more shot Marsha I'll take care of you Here we go Shit, let's do this Niente Ah, sono ancora rindampida Sì Sì Aspetta, eh, non lo posso attaccarlo Però Cazzo D'accordo Vaffanculo Aspetta, lasciami solo Siamo soli! Vedi che non posso farlo! Ciao, partner! Sto sicuro che avete il tempo della vita, ma ci sono necessari di stare in un lavoro. C'è qualcosa di Sector 7. Allora, riuscivi a tornare qui ora! Ah, ho capito. Hai un'altra parte? Apparentemente così. Vieni a casa e resta qui! Vieni che non posso farlo! Non ho combattuto benissimo eh! Non ho trovato una contromossa a quella cazzo di presa! Niente, qui? Vabbè! Vabbè! Preseguiamo! Eccoci! Vabbè! Bellissimo qui! Vabbè! Dov'è? Vabbè! secondario uh you talking to the so yeah it was that kind of day let's go shouldn't keep on waiting hey what'd they say good work today guys kidding they didn't say a word but you know uh never mind it's not like you'd believe me after all probably not tell me anyway really yeah it won't be much longer now the flowers they they have something important to tell us something they need to share with us at least that's the feeling i get but before they can there's a final step that has to be taken otherwise we won't hear them maybe i should just give up honestly it's what i do best you could have fooled me from what i've seen you're no quitter well today is special that's why i've been working my butt off uh what's so special about it okay time to go learn to talk to her good work today guys that's the spirit okay chissà se mi faranno fare la fuga mentre eris dorme penso proprio di sì eh penso proprio di sì non possono averla tolta Sì, è sufficiente per un giorno. I want you to make up the guest room. Gotcha. Take a load off, okay? Judging by those eyes, I'm guessing you're a soldier. Ex-soldier. I hate to ask, but would you leave tonight without any fuss? No questions. You boys made a trade, a normal life, for power. You can't have it both ways. I'm back. Good. Now, I hope you're hungry. Starving, right? I've never been so proud. Refresh back, she knows. The man you've become, women must be hounding you day and night. Not really. You know, there's all kinds of temptations in the big city. I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl. One who'd make sure you didn't get into trouble. I can take care of myself. An older, more mature girl. I could keep you on the straight and narrow, and tell you when you're being a silly goose. That's the perfect type for you, I'd say. Don't want to overstay my welcome. It's notte now. But I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. Su, però, a vedere... come di notte... Oh, cazzo, però questa è una bastardata... Eh, ho preso il zucchio. Niente. Tu avevi un buon sogno? Non ti preoccuparti, ti sentirai molto meglio nella mattina... E ho promesso di portarti direttamente a casa. Uh, ok. Eh, ma hanno messo proprio là, però... Chissà se c'era un trofeo per... uscire... senza... al primo colpo, senza fare rumore. Eh, c'hai ragione, no? Ho visto. Ero concentrato solo sull'andare piano. Invece sti maledetti... mi hanno messo un secchio qui... e un altro lavoro... ah... aiuto, quanta roba... ma guarda che maledetti... ah, non mi fanno andare su... Porca puttana... ho appena sfiorato... Ero uffio! Ero uffio! Ho pensato che ti ho detto di non lasciare la tua sala. Ora, arrivi in là! Ok. C'è... c'è un... un forziere lì dentro... Come lo prendo? No, c'era... aspetta... concentriamoci... Ah... Hanno fatto gli infami qua... Guarda quanta cazzo che roba... mi hanno messo... tre piedi... Ah... Ah... Ok, hanno capito che... meglio... se me levano... se me rendono un po' più facile... Oh... No, porno... Eh, vabbè, l'ho sfiorato però, Gesù Cristo... No, più gioco! Gesù Cristo... Gesù Cristo... Gesù Cristo... Gesù Cristo... Gesù Cristo... Nanananananana... Gesù Cristo... M'hanno tolto tutto mo... M'hanno tolto pure quello? No, l'hanno lasciato... Allora... Questo... lo evito... Così... Ta... 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 Ecco... Piano... 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 De qua... Piano... 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 Ok... Un giritto me lo faccio di qua però... Spettacolo... Ok... Andiamo... No... Ho sbagliato... Mi sa qua che succederà... Potta também... E... There... für bambini qui dai.... Non so. E se la nuova Florist... Rotorziamo te ajudar conformationà oggi... Grazie a te evitare... похitare... Non zambiscono economicamente chi ha salvato... Scusate di franchises dieci di Hellu... Terno... Non ti spettacolo, i bambini parlano di te come si trovano un nuovo ero. Grazie per essere qui per i bambini, davvero apprezzato. Stai lavorando a questa sera? I bambini parlano di te come si trovano i bambini. Grazie per essere qui per i bambini, davvero apprezzato. Possiamo andarcene. I bambini non li vado a salutare, mi dispiace. Che ragazzino sei andato? Che bella di notte che l'hanno fatto. Guarda che bello di notte. Qua? Non mangio solo qui via, forse non c'ero... C'ero venuto per niente? Non c'è niente comunque. Eccola la. Eccola la. Per esempio, con il chiamato un'iterima. Cosa sta spiegando? Apprezzando. Cosa? Perché non sono ancora morbida di te. No, 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 no.